Castelfilardo La città della musica Massimiliano Orlandoni Dà la fotografia alla pittura Il suo atelier e le sue mostre Massimiliano Orlandoni Incontro con l'arte nell'atelier Di Piazzetta Garibaldi a Castelfilardo Vi lavora da qualche anno Dopo il primo e timido esordio In altra e meno confortevole sede Personali e collettive Nei maggiori centri della penisola Molto seguito all'estero Spagna, Francia e Giappone in particolar modo Indicato dai critici Come artista emergente e di talento Orlandoni, personaggio autodidatta E quindi non segnato Da particolari percorsi di studio Esprime nelle sue opere Tutta una serie di elementi unici Quelli che poi si materializzano In creazioni molto belle e ricercate Come diventa artista Massimiliano Orlandoni In un viaggio nel 90 Con un amico Ho partito con la moto Non avevo la macchina fotografica E me la diede in prestito Il fotografo di paese Mi innamorai del mezzo Ho visto che Ottenevo anche dei risultati soddisfacenti E così in data Nel corso del tempo Ho conosciuto vari Fotografi di fama internazionali Prima fra tutti Mario Giacomelli Ho preso le tecniche a camera oscura Ho approfondito sempre più il mio linguaggio E ad oggi ho integrato con la pittura E altre tecniche miste alla fotografia Dunque tutto nasce da un viaggio Viaggio che diventerà poi un tema ricorrente Nel formarsi del suo percorso artistico Dalla fotografia in bianco e nero alla pittura Fotografia integrata nella pittura Una tecnica mista molto affermata Presso i critici e gli amanti dell'arte contemporanea Innovativa direi anche Che tiene conto della tradizione Innovativa sicuramente nella sua integrazione E nella sua composizione La tradizione perché comunque fa uso di materie e pitture E per me è un'innovazione Soprattutto per il percorso che ho fatto Come dicevo prima Sono partito da fotografia tradizionale Con reportage e servizi E questa innovazione è stata per me necessaria Per far uscire ulteriormente la mia identità e il mio linguaggio Opere realizzate allora con i due differenti linguaggi Della fotografia e della pittura Perché l'idea di integrarli? Sostanzialmente è nato da una necessità di occultare il nero Facendo fotografia bianco e nero Con il tempo mi sono sentito sempre più distaccato dal nero Inteso come buio Come oscurità Come negatività L'integrazione della tecnica e quindi della pittura È proprio volta a mascherare questo nero Per dare una luce sicuramente diversa e positiva E rischiarare un po' l'opera finale Tra le numerose esposizioni nazionali e internazionali E anche quelle nella sua terra di origine L'ultima mostra in ordine di tempo Quella di Ascoli Piceno a Palazzo dei Capitani La personale è un punto importante Perché dà appunto un'osservazione Sul momento specifico dei miei lavori La collocazione all'interno del Palazzo dei Capitani Esattamente in scavi ecologici Fa sì che ha creato una sinergia Tra i lavori e l'ambientazione È veramente favorevole Dai commenti ricevuti Ho sentito veramente delle emozioni forti E nello specifico io ho portato 70 lavori Per la maggior parte creati appositamente Ho notato che effettivamente hanno Dettagli particolari che sembrano Ricavati dal travertino Che è la materia principale degli scavi stessi E essendo una vecchia casa romana Sembrano quasi per assurdo Che quelle opere siano state sempre lì Mostra ad Ascoli Piceno Un omaggio alle Marche A quanti seguono con molta attenzione Le sue creazioni Una presenza nel sud della regione Con il pronto riscontro Di una bella accoglienza Meravigliosa A livello numerico Veramente una quantità Immensa Perché non me l'aspettavo Un fiume di folla Al tempo stesso Ho scoperto che c'era il desiderio E l'attesa di approfondire Il mio lavoro Di vedere il contesto E quindi Non era una partecipazione sterile L'inaugurazione Nello specifico Avvenuta all'interno del caffè Meletti Ha fatto sì che ci fosse Quell'atmosfera anche romantica E storica Del retro Del vecchio caffè Delle arti Dove appunto Gli artisti si incontravano E quindi È stata per me Un'esperienza veramente Che mi ha lasciato il segno Catalogo dell'esposizione A Palazzo dei Capitani Curato da Giovanna Bonasegale Direttrice della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Roma Un nome molto importante Nel panorama artistico nazionale Per la mostra di Ascoli Piceno Una bella soddisfazione Aver potuto vantare Una firma così qualificata È un orgoglio personale Veramente perché Dicevo prima Nel seminare È bello Ricevere ogni tanto Qualche risultato Questo sicuramente Ad oggi È uno dei maggiori Mi sono Racconto un aneddoto Perché poi È un po' come dire Che le favole A volte esistono La dottoressa Ha conosciuto i miei lavori In una collettiva Martina Franca Dopodiché Ha cercato su internet Assolutamente In tutti i modi Di rintracciarmi Un bel giorno Stavo lavorando qui In studio Ricevo una sua telefonata Il che ovviamente Mi ha aperto Il cuore Ad una dimensione Che non mi sarei mai aspettato In questa occasione Ho chiesto Se per cortesia Poteva fare La presentazione Di miei lavori Sia nel catalogo Che alla Alla mostra Quindi all'inaugurazione Lei Felicissima di farlo Addirittura Con un entusiasmo Ancora Più grande Del mio stesso E questo rapporto È bello proprio Perché Si basa Solo e semplicemente Su un aspetto L'arte Nella sua essenzialità Nella sua dimensione Di emozioni E basta Dunque Affermato Atelier E mostri importanti L'uno e le altre Il segno vincente Di un convinto Impegno artistico Nella realizzazione Delle sue opere Espressioni gentili E vigorosi Al tempo stesso Dolci le linee Marcati i particolari Con ciò Quali messaggi Mandare all'esterno? Il primo In assoluto È quello Della positività Io Per primo Venendo Dall'oscurità Che utilizzavo Prima La fotografia Che facevo Era un bianco e nero Spostato Ovviamente Più sui toni Del nero Sulla tristesa E sulla malinconia Io stesso Ho fatto questo percorso Sia interiore Che nella vita Che poi Nell'opera Per cercare Di dare Una solarità Una luce Un chiarore Che poi Anche nella mostra Si vede Con una intensità E una luminosità Piacevole Che coinvolge E rende sicuramente Di buon umore Messaggi per l'esterno Da opere Che esprimono L'anima dell'artista E che spingono Alle letture Più diverse La fotografia Che si integra Nella pittura E viceversa Per un continuo Discorso Di ricerca Espressiva Da chi E da dove L'interesse Per le sue opere Sto notando Che principalmente Arriva dai giovani Da Da coloro Che appunto Hanno questa Forse anche loro Necessità Di Di mettere Dentro All'interno Delle proprie case Delle proprie abitazioni Opere Che Diano Stimoli Alla quotidianità Al Piacere Di Di vedere Della positività Spesso Le opere Si trascinano Dietro Sempre quel Quel senso Di malinconia Un po' Come la poesia Che viene scritta Nei periodi Di tristezza E questo Ho notato Che con il tempo Le persone Non gradiscono Averle alle pareti Come d'altronde Penso sia anche ovvio In questo contesto Nel mio particolare Ho notato Che oltre i giovani Anche coloro Che hanno Necessità Di un linguaggio Nel caso Specifico Astratto Sentono Il bisogno Di Di intravedere Nell'opera Ogni giorno Una cosa Diversa E quindi Diventa Uno stimolo Reciproco Nel cercare Dettagli Sfumature E particolari Che diranno Il là Durante la giornata L'atelier Di Piazzetta Garibaldi Una casa di artista Progettata insieme A sua moglie Federica Spagnolo Ambienti Dove poter vivere E far vivere L'arte Caratterizzando Negli aspetti Più particolari L'atelier Una tappa Un primo traguardo Importante Per il lavoro Di Massimiliano Orlandoni Aggiungerei Fondamentale La sua ristrutturazione Ha fatto sì che Nelle mie opere Intervenisse Quasi la materia Mi sono ritrovato A ricostruire Questo immobile Acquistato nel 2001 Per ben tre anni In mezzo e quattro Per cui Ha quasi seguito Con me Questo percorso Evolutivo Del mio lavoro Mi sono ritrovato In un contesto A mio avviso Fantastico Per ambientazione storica E per fascino E sono sicuro Che questo Questo segno Distintivo Lo trascinerò Addietro Per parecchio tempo